Il treno regionale 17650, di Trenitalia Tiper, proveniente da Rimini, è diretto a Rabenna, delle ore 6 e 11, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 17653, di Trenitalia Tiper, proveniente da Rabenna, è diretto a Pesaro, delle ore 7 e 17, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 17542, di Trenitalia Tiper, proveniente da Rimini, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 8 e 49, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Rimini Torre Pedrera, Igea Marina, Bellaria, Garteo Amare, Cesenatico, Cervia Milano Marittima, Lido di Classe Lido di Savio, Rabenna, Godo, Russi, Bagnacavallo, Lugo, Sularolo, Castel Bolognese, Imola. Il treno regionale 17654, di Trenitalia Tiper, proveniente da Pesaro, è diretto a Rabenna, delle ore 9 e 23, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 17615, di Trenitalia Tiper, proveniente da Bologna Centrale, è diretto a Rimini, delle ore 10 e 11, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 17615, di Trenitalia Tiper, proveniente da Ferrara, è diretto a Rimini, delle ore 12 e 11, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 17556, di Trenitalia Tiper, proveniente da Rimini, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 15 e 49, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Rimini, Torre Pedrera, Igea Marina, Bellaria, Gatteo Amare, Cesenatico, Cervia Milano Marittima, Lido di Classe Lido di Savio, Classe, Ravenna, Russi, Bagnacavallo, Lugo, Solarolo, Castel Bolognese, Imola. Il treno regionale Veloce, 4008, di Trenitalia Tiper, proveniente da Rimini, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 20 e 49, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Rimini, Torre Pedrera, Igea Marina, Bellaria, Gatteo Amare, Cesenatico, Cervia Milano Marittima, Lido di Classe Lido di Savio, Classe, Ravenna, Russi, Bagnacavallo, Lugo, Solarolo, Castel Bolognese, Imola. Il treno regionale Veloce, 2477, di Trenitalia Tiper, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Rimini, delle ore 23 e 11, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.